Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo appuntamento con la nostra retina dell'auto. Oggi ci troviamo in compagnia di Pirola, concessionaria Volkswagen e alle nostre spalle una grandissima novità appena appena lanciata di cui ci parlerà Paolo, uno dei collaboratori. Ciao Paolo. Buonasera Rosi e buonasera dalla concessionaria Pirola. Qui abbiamo una grandissima novità che è la nuova T-Roc che è appena stata lanciata sul mercato e qui l'abbiamo nella nuova versione da 190 cavalli che è una versione esclusiva che Volkswagen ha deciso di proporre in fase di lancio della vettura in numero limitato. Questa vettura ha la peculiarità di avere 190 cavalli, una motorizzazione benzina e quattro lotte motrici abbinate al cambio automatico. Paolo, diamo ancora la possibilità ai nostri amici telespettatori di vedere qualche altra immagine di questa che ricordiamo, come l'hai detto già tu, è una versione particolare di T-Roc. Poi naturalmente andremo a parlare anche di tutto il resto della gamma, però insomma mi sembra veramente importante sottolineare questa versione che in occasione del lancio è stata prodotta appunto da Volkswagen proprio per dare il massimo. Quindi qualche immagine ancora degli interni se vuoi descrivercela. Sì, grazie Rosy. Come dicevamo questa vettura è in assoluto oggi il modello di punta di T-Roc che come dicevi tu non è naturalmente l'unica ma è un po' il concetto di far vedere cosa si può avere su questa vettura. Abbiamo questi esclusivi cerchi da 19 pollici, i fari a LED sia anteriori che posteriori, il tetto apribile e tutto il cielo interno della vettura è nera che conferiscono alla vettura veramente un'immagine dinamica e molto molto sportiva. Con le quattro ruote motrici come abbiamo detto e la potenza a disposizione si trasforma veramente in una piccola bomba. E la sicurezza non è mai messa da parte, con le quattro ruote motrici riesce praticamente a scaricare questa potenza a terra in maniera molto 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 progressiva e la macchina è una tenuta di strada veramente incredibile. Perfetto, ora Paolo però parliamo anche della versione normale fra virgolette di T-Roc, che motorizzazione abbiamo e che allestimenti che naturalmente i nostri amici troveranno qui da voi. Sì grazie Rosi, la T-Roc parte con la motorizzazione 1000 benzina, poi saliamo al 1500 sempre benzina e in fase di lancio abbiamo il 2000 turbodiesel. La gamma verrà ampliata nel corso dei prossimi mesi, attualmente il cambio automatico è disponibile sulla versione turbodiesel e quattro ruote motrici, sicuramente nei prossimi mesi andrà a arricchirsi di altre versioni. È un prodotto che anche in fase di prelancio ha avuto un riscontro veramente incredibile, io sono un po' di anni che faccio questo lavoro ma un lancio e un interesse su questa vettura non l'ho mai visto. Dal vivo poi si possono apprezzare veramente questi nuovi colori, questo è un bianco grigio metallizzato, è un colore veramente unico che Volkswagen ha deciso di lanciare sui nuovi modelli per dare proprio la sensazione di avere oltre a una vettura nuova il colore è proprio un colore che rende giustizia a quest'auto, che la proietta veramente nel futuro. Da parte posteriore ci sono questi nuovi fari a LED che sono un'esclusiva sempre di T-Rock e su 190 abbiamo anche questi cerchi che sono veramente esclusivi. Abbiamo dedicato un ampissimo spazio a T-Rock che ha la novità ma non dimentichiamo che trovate anche tutto il resto della gamma Volkswagen naturalmente qui da Pirola e in particolare Golf, vero Paolo? Sì, grazie Rosy. Golf è come non ricordarla uno dei capisaldi di Volkswagen, forse in assoluto il modello più iconico ancora oggi, qui lo vediamo in questo colore molto particolare che nell'allestimento sport veramente rende giustizia a quest'auto che ormai è arrivata alla settima generazione e ha avuto un'evoluzione sia in termini di sicurezza che di prestazioni incredibili. Volevamo soffermarci su quello che Pirola offre oggi su Golf che è un'esclusiva di Pirola. Noi offriamo tre vantaggi al nostro cliente e questi tre vantaggi sono a scelta del cliente, cioè per la prima volta offriamo un vantaggio che può scegliere il nostro cliente sia affezionato al nostro nuovo cliente e questo va ad aggiungersi a quelle che sono le promozioni in atto sul modello. Quindi esclusivamente da Pirola per questo mese sull'auto in pronta consegna abbiamo queste tre iniziative che naturalmente spiegheremo meglio ai nostri clienti quando ci vengono a trovare. Perfetto, quindi vi lasciamo la sorpresa. Ecco avete capito bene, ci sono tutte le iniziative, ci sono naturalmente delle promozioni particolari ma in più da Pirola potrete scegliere tra tre vantaggi esclusivi e scegliete quello che più vi piace, quello che più vi fa comodo. Io ti ringrazio Paolo perché adesso dobbiamo andare a vedere l'usato per cui ci ritroviamo naturalmente qui alla prossima puntata. Grazie e voi seguitevi. Grazie a voi. Bene, dopo aver visto le promozioni e soprattutto aver visto il prodotto per quanto riguarda il nuovo, abbiamo visto anche grandi novità naturalmente in casa Volkswagen, siamo usciti all'esterno in compagnia di Luca Busnelli. Parleremo di vetture usate, vetture aziendali, vetture a chilometri zero. A te Luca. Grazie Rosy. Buongiorno a tutti. Cominciamo da queste nostre golf semestrali, hanno otto mesi di vita. All'estimento abbiamo cambio manuale, cambio automatico per quanto riguarda Highline, Comfortline, sono i vari equipaggiamenti. Accessoriate con fari fendinebbe, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, navigatore sulla versione Highline che è come questa. per quanto riguarda i cerchi sono maggiorati da 17 pollici, antifurto, specchetti ripiegabili elettricamente. Auto dove noi possiamo dare a Rosy due anni di garanzia per la promozione con la Rosy o quattro anni se riusciamo a chiudere l'ordine entro gennaio. Grande promozione, usciamo anche con un tasso molto importante del 2,99%. Siamo in grado di darvi anche un service gratuito, vi voglio rovinare anche, un finanziamento al tasso del 2,99%. Passiamo inoltre a Polo, disponiamo di vari modelli per esempio e vari colori, benzina, turbo diesel, andiamo da 75 cavalli o 90 cavalli, quindi possiamo accontentare dal neopatentato a quello un po' più brioso, se parliamo di macchine benzina. Anch'esse prodotti semestrali, quindi parliamo di macchine semi nuove, 10.000 km, 15.000, 20.000 massimo. Abbiamo anche cambio automatico sul turbodiesel e macchine quindi anche turbodiesel per accontentare quel cliente che fa un po' più di chilometri, ecco, quindi macchine comunque del 2017, Polo Golf. Possiamo parlare anche di prodotto app, disponiamo di app come questa, più di una, vari allestimenti, quindi parliamo di questa nella fattispecie è una cross app, quindi è una macchina un po' più accessoriata e un po' più effetto SUV, ovviamente mettiamolo così. Abbiamo anche versioni entry level, ma a partire da 8.900 euro, quindi un grande prezzo. Consideriamo che questa vettura nuova siamo a intorno 17.000 euro, prezzo Pirola 11.300 euro per avere 6.000 km, dotata di ogni comfort. Scusa Luca, veramente è una vettura come nuova questa e poi vorrei sottolineare una cosa che hai detto prima, e cioè il tasso 2,99%, è veramente bassissimo e poi anche la promozione che hai fatto, per cui dite che avete visto la trasmissione, dite che mi avete visto e dite che avete visto questa nostra vetrina per poter usufruire di quello che vi ha detto, quindi un service, quindi vuol dire un tagliando? Esattamente, olio e filtri, monodopera compreso e quindi anche il lavaggio con cui noi diamo come servizi integrativi. Perfetto, quindi avete sentito bene, se vi fosse sfuggito qualcosa chiamate oppure venite personalmente. Ed ora proseguiamo con quale prodotto? Abbiamo Passat, prodotto un po' più grande e poi Tiguan. Passat sono macchine dirigenziali, partono da 3.000 km fino a 20.000 km. Allestimento Comfort Line Business, quindi medio di gamma, ma con navigatore, sensore di parcheggio anteriori, può essere il full, quello, quindi ormai non voglio farvi la classica lista della spesa, però sono veramente accessoriate. Macchine da 38.000 euro di listino, signori, noi siamo in grado di potervi dare Passat, lo dico piano o lo dico forte, da 22.500 euro. Questo è il nostro prodotto, prezzo plus Pirola. Poi possiamo avere anche vari colori, quindi blu, nero, argento, queste sono appena arrivate, sono le nostre new entry, ritirate ieri però sono degni di sguardo. Vari colori, quindi abbiamo quello chiaro, quello scuro, possiamo accontentare l'elegante, lo sportivo, ogni allestimento in Pirola esiste. Passiamo poi a un altro prodotto, al SUV, quindi possiamo accontentare anche chi vuole una mini Jeep, comunque non è proprio un mini Jeep, ma è un grande SUV. Questa Tiguan, questo nella fattispecie è un full optional del 2016, ha percorso solo 5.000 km i rosi, quindi macchina pari al nuovo. Parliamo da un listino di 42.000 euro, prezzo Pirola 33.500 euro. Abbiamo anche 2.000 di cilindrata, quindi per quel cliente un po' più sportiveggiante e vari allestimenti, quindi considerate che in Pirola disponiamo di 331 macchine in casa oggi, quindi se non volete la macchina non venite qua, perché qua voi uscite con un'auto veramente. 331 vetture a vostra disposizione, questi sono solo piccoli assaggi, vero Luca? Ecco, sono veramente piccoli esempi di quello che potrete trovare, insomma adesso vi faremo vedere anche qualche panoramica. semestrali. Ecco, descriverli pure. Esattamente, abbiamo prodotto Golf, ecco, cosa importante, tutte le macchine sono del 2017, quindi sono praticamente nuove. Diciamo che è un nuovo meno 10.000 euro, forse magari così possiamo accontentare due in una, via, la macchina per tutti i giorni e per il weekend, mettiamola così. Passiamo a Golf, nuovo modello, quindi notiamo il faro stilizzato, aggiornato, quindi per i clienti diciamo un po' più effetto ultimo grido, prodotti con un forte sconto, siamo intorno ai 32% di listino scontato, un chilometro di zero, 4 anni di garanzia, tassi proprietà pagata, tagliando omaggio se facciamo un finanziamento, finanziamento sempre al 2,99. Sono varie promozioni, adesso non voglio svelare tutti, diciamo, le sorprese che abbiamo nel cilindro, molto grande il nostro cilindro. Poi abbiamo anche macchine aziendali nostre, parliamo di 6.000 km, 10.000 km, quindi abbiamo veramente tante macchine, signori. Quello che non c'è, secondo me, devono trovarla. Io secondo me qui lo trovano sicuramente, poi Luca tu ci hai fatto capire che insomma ci sono tante altre macchine oltre a queste che vi abbiamo presentato, di cui vi abbiamo fatto un esempio. Per cui il consiglio è questo, seguite la trasmissione, dite che l'avete vista per avere l'opportunità appunto di avere questo finanziamento particolare, tagliando in omaggio se fate il finanziamento, il tasso che avete visto è davvero straordinario e tanti tanti altri vantaggi. E naturalmente ricordate che se non avete visto durante la trasmissione la vettura che stavate cercando, venite perché sicuramente Luca e gli altri collaboratori la trovano. Grazie Luca, ci vediamo la prossima puntata. Grazie a voi. Grazie, grazie a tutti voi.